Bella ragazzi, bentornati e benvenuti a questo mio nuovo video, sono ZedraFHD ed eccoci qui con un altro gameplay su GTA V Prometto il fatto che quest'oggi abbiamo un obiettivo ben preciso, nonché appunto quello di andare a cercare gli squali Per il fatto che da pochissimo ho appena visto che su GTA V ci sono presenti appunto questi animali Quindi ho detto, perché no, andiamo a vedere se è veramente reale come cosa Anche perché sono certo che comunque dà la possibilità di sbloccare un obiettivo, quindi tanto di guadagnato Comunque ci stiamo dirigendo verso la costa, con la quale dobbiamo cercare di muoverci con un mezzo, una barca o qualcosa che dà la possibilità di andare all'arco Quindi adesso vediamo un po', ovviamente lui guida sullo skatepark, perfetto, grande, ci ribaltiamo subito Quindi niente, andiamo qui sulla costa, vediamo se riusciamo a trovare qualcosa interessante Testiamo un po' di bagnanti, ok Questa che vuole? Vuole il sostegno, perfetto Ok, qui ci sono le mota d'acqua, quindi adesso scendiamo subito e prendiamo qualcosina In tali da poter vedere Adesso non vengo a fare la missione, no, 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 assolutamente no Non mi è fatto un cazzo Anche se quella vuole che vado a trovarla, non mi è fatto un cazzo Quindi, bam, vediamo un po', molto ad acqua tra l'altro, molto figa Oddio, ma qui ci sono le acrobazie Ma porca puttana, dopo lo faccio, prima andiamo a testare se veramente esiste Quindi niente, vediamo un po' se ci siamo già allontanati, perfetto Andiamo sempre più a largo, perché tra l'altro comunque questa è una zona che ancora non ho esplorato Magari tipo esce qualche isola o qualcosa del genere Però credo proprio di no Quindi siamo nell'oceano Pacifico, se non sbaglio, Atlantico o qualcosa del genere Quindi ovviamente gli squali ci sono Allora, ovviamente il fatto che ci vorrà un po' di tempo a trovarli sicuramente Non credo che appena mi butto un'acqua, pam, trovo lo squalo Quindi dobbiamo mutare un po', adesso vediamoci, orientiamo in base alle situazioni Quindi ci siamo allontanati parecchio comunque Non perdiamo di vista la moto d'acqua E adesso faccio un bel tuffo tra Perfetto, appena trovo un'onda abbastanza buona Ok, questa qua, via Ok, via Dovremmo essere in una profondità abbastanza elevata Tra l'altro non posso neanche andare giù Magari, se tipo provo a sbloccare l'abilità del nuoto Sicuramente si potrà fare qualcosa in più Quindi qui abbiamo solo pesciolini per il momento Cazzo, va che siamo per morire già Oddio Ok Questo tira i pugni nell'acqua Ma come fa? Dovrebbe affondare Vediamo un po' la visuale Eccolo, eccolo Porca puttana Porca puttana lo squalo Oddio 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 non mi ha visto Oddio Cazzo Epico Ma 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 distrutto Eccolo qua Abbiamo fatto anche il trofeo Ok, comunque signori Spero che questo video vi sia piaciuto Ci siamo un po' diversi dagli altri Appunto per testare Che rappresentano squalo Sul GTA V Quindi niente Un saluto da ZFHD E ci si becca giorni con un nuovissimo video Bella Ciao 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 Vuoi Va eri Grazie a tutti.